Ciao a tutti e benvenuti a un'altra giornata del Tg del giorno dopo. Oggi si avvera in qualche modo un sogno, un sogno di alcuni di noi, si possono avverare i sogni di tutti, ma io nel mio cannocchiale del giorno dopo vedo il governo che tanti di noi delusi del PD, ma che comunque proveniamo da quella sfera di ideali, abbiamo sognato, cioè un governo vicino alle istanze dei più deboli, un governo democratico, onesto, in cui ci sia anche una forte istanza contro la corruzione, contro la mancanza di regole e contro le lobby che in qualche modo condizionano continuamente il rapporto tra il cittadino e le istituzioni in vari livelli. Ora, le lobby ci sono in tutti i paesi, è un fenomeno che prima o poi mi riprometto di approfondire meglio, ma insomma nel mio cannocchiale vedo che in questa situazione in cui io non ci credevo, infatti ho sbagliato una mia previsione, pensavo che Salvini in qualche modo sarebbe rientrato, ma evidentemente Salvini in Russia deve averne fatte di tutti i colori e quindi io lo trovo tra l'altro lo vedo tranquillo, lo vedo stranamente tranquillo, quindi pronto ad attendere tranquillamente anche tre anni, quindi insomma devono essere accadute cose di cui sapremo chissà quando in questi viaggi russi di Savoini, di questi accordi o non accordi, insomma quello che è successo non lo sapremo certo noi cittadini normali molto rapidamente, comunque qualcosa è successo lì perché subito dopo è stata fatta una richiesta di pieni poteri, lampo, il Parlamento ha scaricato la rega giustamente di fronte a una richiesta così malsana e si è aperta improvvisamente un'occasione che per una volta il PD sembra con fatica avere capito che è da sfruttare, è un'occasione di cui approfittare e quindi mentre Renzi starnazza dicendo che lui mai e già mai si metterà in un governo con il Movimento 5 Stelle c'è tutta una corrente che è legata a Franceschini, Zingaretti e anche a Del Rio, Prodi, insomma gente che magari io apprezzo di più, che è aperta a dialogare con Di Maio, è aperta a dialogare con Fico, con l'area più democratica del Movimento 5 Stelle perché anche riguardo al Movimento 5 Stelle c'è da dire che c'è un'area che proviene, come potrei definire me stesso, da chi è stato deluso dal Partito Democratico e un tutto un'area che invece proviene dalla destra e che ha tutto un altro tipo di background e che ci siamo incontrati sulla istanza di mettere first things first, cioè le prime cose al primo posto, cioè il fatto che la corruzione, cioè il fatto che un politico non possa essere pregiudicato, corrotto, non possa essere uno che passa sui cadaveri delle persone, non è una cosa che si può, però è molto competente, no, questo non si può fare, non si può accettare. Dunque, dovremmo coniugare la competenza con certi principi che sono inviolabili, mi dispiace per chi dei lobbisti, dei banchieri, pensa diversamente, ma ci sono principi umani inviolabili di fronte ai quali gli interessi economici si devono fermare e stabilire una centralità della persona umana nella società, una società che è laica, quindi non va in giro agitando rosari, ma che può essere credente, può essere non credente, ma comunque si muove in un contesto di laicità e di solidarietà con i più deboli. Questo non significa non essere efficienti, anzi è esattamente il contrario, una società che funziona bene per me è quella svedese, quella in cui chiaramente loro sono di meno, quindi ci riescono più facilmente, comunque è quella in cui, essendo assicurate alcune cose di base, esiste una serenità sociale e una stabilità sociale che permette poi a tutti i settori di funzionare meglio, e di battere questa, vincere questa famigerata competizione globale che chissà poi chi ci darà la medaglia alla fine per chi la vince questa competizione globale con questi Trump che si vogliono comprare la Groenlandia e con questi Huawei, con questi signori pari che imperversano spiegandoci che noi dobbiamo votarci al profitto. Dunque, penso che sia una bella occasione, ho molta fiducia in Mattarella, penso che il governo, come avevo previsto, non cadrà, non cadrà non perché Salvini rientra, ma perché c'è un'occasione più bella, più interessante, e speriamo che sì, ci sia la discontinuità riguardo a certe durezze con i rapporti internazionali, però che ci sia anche continuità sull'istanza morale e sull'istanza della lotta contro i privilegi della casta. La casta in Italia è fortissima, ci sono famiglie, famigliotte, consorterie, lobby, logge, e tutto questo rende il sistema non facile, ingiusto, aumenta le diseguaglianze, e dunque queste sono le sfide in cui vedremo alla prova nel mio cannocchiale. Io vedo questa prova, vedo che la prova Di Maio un po' l'ha superata, Zingaretti è tutto un po' da vedere perché lui in casa c'ha delle bestiole che quasi quasi io andrei a fare, a rimpolpare liberi e uguali piuttosto che cercare di dialogare con certi poteri, ma comunque Zingaretti questo non lo farà, anche lui non è estraneo alle logiche della politica in cui ci sono i rapporti economici e ci sono i rapporti di forza. Vedremo se tutto questo potrà essere declinato andando verso una civiltà in cui ci sia un accesso alle opportunità aperto veramente a tutti e non agli amici, agli amici degli amici, ai lobbisti e a certe consorterie, alle volte legate a poteri religiosi, alle volte legate a poteri economici. Insomma, voi leggete il listino del Mib, no? Vedete di chi sono quelle aziende? Vedete di chi è Unicredit, di chi è Mediolanum, di chi è la Fiat, di chi è la Saipem, di chi è Eni, e vi fate un'idea di capire in che modo si può cercare di equilibrare, equilibrare, equilibrare questo nostro meraviglioso paese. Ecco, questa è la sfida, la sfida del covo dei buoni. Siamo nel covo dei buoni, speriamo che questo covo dei buoni sia un po' più un luogo dei buoni e un po' meno un covo. Buona giornata a tutti!